Nella sua produzione poetica l'autore non ha mai avuto timori nel mostrarci gli aspetti più duri dell'esperienza dell'immigrato, in specie la difficoltà di essere accettati e di trovare un senso di appartenenza. Il suo approccio spicca nella poesia contemporanea. Laddove altri autori tentano di mascherare quella sofferenza o di trattarla per allusioni, il poeta la pone in primo piano e al centro, così che risulti ineludibile e debba essere affrontata.